Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma a causa di un incidente adesso risolto ci sono 7 chilometri di coda tra incisa Reggello e Arezzo. Sulla A11 per traffico intenso code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sul raccordo autostradale Siena-Firenze restringimento di carreggiata in corrispondenza dei viadotti Filinelle e Molinuzzo tra Poggi Bonzi e Tavarnelle. Sul raccordo Siena-Bettolle per lavori restringimento di carreggiata all'altezza di Castelnuovo Berardenga chiuso in entrate e uscita allo svincolo di Colonna del Grillo in direzione Siena. La viabilità cittadina in via Pilati per lavori di vieto di transito da Lungarno Colombo a via Sella. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.